Sì, tra dieci minuti stacco pure io No, vabbè, infatti Ok, ok che è stata una figata trovare quella base Ci vuole un lavoro, adesso lì dentro Oh, ma non ci sono zombie Ecco Secondo me adesso mi vede Come fa a non sentirmi? Oh, finalmente, dai su Ah Bravo Così ti voglio Ciao Reboot Meravigli Ho sentito uno zombie Che succede? Eh, ho sentito come se fosse tutto qua Come che l'ho sentito da te Sbrigati, 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 sbrigati apprezzarla Non la vedo, non la vedo Com'è che non scatta? Com'è che non scatta? Oh, non sto scattando Ah, smetti di fare il pagliaccio Eh, ci passo di sopra e non la fa scattare Prima, l'edizione dei parrini Oh, ci sto girando Intorno come un pretino Se n'è andato Perché? Oh, pagliaccio, sono qui Oh A vedere questo Come un po' Ah, guarda, 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 guarda... Ma guarda, c'è un simpaticone lì... Sì, mi sa di sì... Ah, non sono arrivato a piazzarla... Mi si è rovinato il macete... Vabbè, c'è un coltello da cucina... Faccio fuori l'ultimo con la trappola per rossi... Va veramente? Cioè, se non ci passa perfettamente sopra... Non lo prende... Va bene, no... Cioè, alla fine non si rovina neanche... Quindi se non trovo una trappola per orsi... Una alla volta di zombie ne puoi ammazzare quanti ne vuoi... Quasi in sicurezza... Quasi... 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 Grazie.